E' un'altra parte. Andò! E' fine! Vieni, è qua! Le barri che è qua, mi pare! Finalmente! Non ne posso più! Sì, e questo è qualche scena. Speriamo scena. Speriamo di trovarlo. Signori, prego, qui non si può stare. Scusi tanto, avevo cominciato meglio. Neanche qui si può stare. Non abbiamo pazienza. E non si può fumare. E non si può entrare. Ma come sei la preciosa! E non si può parlare! Eh, caro signore, qui si esagena. Non si può entrare, non si può fumare, non si può parlare. Ma qui mi pare che si vada oltre il consueto. Dici voi che dobbiamo fare? I signori, innanzitutto, mi devono dire chi sono, cosa vogliono e chi c'è. Ma che è un posto di blocco, una frontiera, un confino! Ma co... Scusa! Scusa, stasera a dire. Co... Il paese nostro c'è più libertà, incondizionata. Ma forse i loro signori sono quelli che vengono da... Da fuori! Dal sud! Oh, ma mi scusino tanto allora! Prego! No! No!